Ciao, astronomi! Oggi stiamo avvicinando la soluzione perfetta per trasformare il vostro HD 8 in in un astrografo compatto per l'astrofotografia in profondo. Il HD 8 in è un telescopio compatto in eccezionale, ma se vuoi usarlo per l'astrofotografia in profondo, anche con il riduzione del focal dedico, ci sono alcuni aggiornamenti essenziali. In effetti, usare un focuser esterno è cruciale per cercare l'astrofotografia in primaria e per evitare l'astrofotografia di cambiare durante la lunga esposizione usata in immagini. Aggiungere un rotatore può aumentare la vostra capacità di frame il obiettivo o compensare per la rotazione del campo se vuoi usare l'astrofotografia di alta azza per l'astrofotografia. Qui c'è la soluzione perfetta. Il focuser 2 in esatto con l'arco 2 in esatto con il rotatore ti permette di ottenere l'astrofotografia optimale, anche per usare l'Age HD 8 in esatto con il riduzione del 0.7x. Ora, esploriamo l'attrofotografia che useremo. L'adaptor telescopio ha 2.5 mm ottica. L'esatto 2 in esatto LP focuser con un rotatore arco 2 in esatto con il rotatore è 54.2 mm ottica. L'adaptor camera ha 4 mm ottica. L'attrofotografia e l'attrofotografia sono 37.6 mm. L'attrofotografia calda ha 17.5 mm ottica. Quindi l'attrofotografia totale è 115.8 mm. Dopo il riduzione del focal, Cellstrone suggerisce un'attrofotografia optimale di 105 mm dal alla fine del riduzione del riduzione. Ma la parte principale del riduzione del riduzione è profonda 12 mm e l'adaptor PL3600542 fullmente tratta in. Quindi questa soluzione ci ha aggiunto un'attrofotografia di 12 mm. Questo significa che possiamo esatturare l'attrofotografia 2 in esatto LP draw cube a 1.2 mm per arrivare al perfettofotografia con la nostra configurazione. Considere che questa calcolazione è valida per questa particolare immaginazione che fa uso di un OAG con un filtrato che mi permette di inserire un filtrato di 2 in esatto per la supressione di polluzione. Quindi se hai un'attrofotografia differente, potete aggiungere la calcolazione di back focus in modo. La combinazione di 8 in esatto LP focuser e rotatore ARCO 2 in esatto ottenere nuove frontiere in esplorare l'astrofotografia di deep sky con questo astrograph che ti permette di utilizzare anche un 0.7x reducer, un off-axis guider e un filtrato di filtrato. Per altri contenuti che ti aiutano a esplorare l'universo come un pro abbiate al nostro canale e... Clear Skies! Grazie a tutti! Grazie a tutti!